Se uno sogna da solo, è solo un sogno. Se molti sognano insieme a te, è l'inizio di una nuova realtà. Tutti abbiamo un sogno nel cassetto. Lo custodiamo una vita intera nella speranza di poterlo realizzare. E per riuscirci lottiamo con tutte le nostre forze. Il destino ci riporta sempre alla realtà. E il più delle volte ci scoraggia, si disilluda. E il nostro sogno si riempie di polvere e ci appare sempre più irrealizzabile. Forse pensiamo di aver inseguito quello sbagliato, ci rammarichiamo, ci sentiamo un po' abiliti e sconfortati. Ma i sogni sono fatti per essere realizzati. E per farlo occorrono le persone giuste, gli incontri fortunati, gli amici veri e sinceri, il momento giusto. E poiché siamo sempre noi, artefici del nostro destino, se mettiamo da parte i miracoli, possiamo prendere la nostra vita tra le mani, spolverare quel sogno che usano il cassetto e riprendere la partita. E per farlo occorrono le persone, con il terapia da letto e la calaccia della comunica, per tramutare la realtà. E con il terapia 2013, il sogno è diventato niente. No hell below us, above us only sky, imagine all the people living for today, imagine there's no country, It's hard to do, nothing to do, nothing to do or do, nothing to do. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti